Come prima cosa mescoliamo le carte e dopodiché andiamo a scegliere una carta In questo caso, questa qui, faccio vedere, ricordatevelo, e la si lascia in mezzo Si mescola, così, e si dà un taglio in un punto qualunque, tipo così Adesso ho la sensazione che vado a trovare la tua carta, anzi più semplice, guardo la carta sul fondo Un 6, vado a contare 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 di 4 Buongiorno ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo tutorial Dato che me l'avete richiesto in molti, oggi andremo a vedere un Anycard at any number, carta al numero, molto semplice e automatico Ci serve una piccola preparazione all'inizio, ma l'effetto è qualcosa di strabiliante Quindi abbiamo unito una cosa veramente semplice ad un effetto finale veramente potente E questa è la chiave per la maggior parte dei giochi Quando una cosa è molto semplice, la maggior parte delle volte ha molto effetto Quindi prima di iniziare vi chiedo di lasciare il pollice in su Il prossimo tutorial arriva quando questo video supera i 7000 mi piace Spostiamoci al tavolo Allora ragazzi, questo gioco è veramente semplice L'unica cosa che vi serve è questa piccola preparazione Dove ci sono 13 carte dello stesso seme In fondo al mazzo A partire dal re in cima all'asso di picche come ultima carta Questo è un gioco ideale per iniziare, per cominciare a fare giochi, un opener, molto facile Quindi l'ideale è già arrivare con questa preparazione sotto il mazzo Se dovete fare questo gioco e non avete la preparazione Potete semplicemente andare in mezzo alle carte e con una scusa Per esempio, voglio vedere se ci sono le 4 donne Portate sotto tutte le carte di picche No, non ci sono perché molte volte regalo le carte Quindi vi faccio un altro gioco e nel frattempo avete già settato le vostre 13 carte Ricordatevi molto importante che l'asso di picche deve stare sul fondo Perché altrimenti il ragionamento vi viene un po' più complicato Dovete partire dal re come se fosse l'asso L'ideale per non far pensare che questo sia un mazzo truccato O per qualunque altra cosa che il nostro spettatore possa pensare Si può mescolare il mazzo facendo una cosa molto semplice Quando arriviamo qui lasciamo scorrere 13 carte più o meno Quindi un blocco così E poi mescoliamo tutto sopra Quindi le nostre ultime 13 carte non verranno mai variate Potete fare anche questo miscuglio qui Nel cavo della mano E invece che buttare sopra Buttiamo sotto Se vi capita di mescolare una carta di picche all'interno del mazzo È molto semplice Basta andare qui Vedere quale manca Andare a riprenderla E riportarla nella sua posizione Quindi questa è la preparazione Abbiamo dato l'idea Che questo sia un mazzo normale E adesso sta tutto al nostro spettatore Possiamo scegliere o di farlo fare tutto completamente al nostro spettatore Dove noi non tocchiamo mai le carte O di farlo noi Se dobbiamo farlo noi Non facciamo scegliere una carta così Ma la faremo scegliere facendoci dire stop Mentre mescoliamo le carte In modo tale da creare l'idea Che le carte appunto siano mescolate Lo spettatore mettiamo caso che ci dica stop qui In questo punto Gli chiediamo o questa o questa Qualunque delle due va bene In ogni caso noi ci ricordiamo Che qui abbiamo più di 13 carte Ok? Mettiamo caso che scelga questa Queste carte invece di buttarle sopra Le buttiamo sotto Mentre lui guarda la carta Si ricorda il sette di fiori E facciamo la stessa identica cosa Dici stop un'altra volta dove vuoi E ancora qui stiamo dando l'idea Che stiamo mescolando le carte Mettiamo caso che ci dica stop qui Rimette lui stesso il sette di fiori qui Lo lascio faccia in alto Per farvi vedere cosa succede E ci buttiamo sopra tutte le carte Quindi il sette di fiori È capitato esattamente sotto Tutte le nostre 13 carte di picche Da questo punto il gioco può avere due svolte O facciamo tutto noi O fa tutto lo spettatore Nel caso in cui vogliamo fare il gioco noi Cosa facciamo? Diamo un taglio Più o meno a metà Così E giriamo le carte di faccia E diciamo che dobbiamo tagliare alla sua carta Quindi taglio qui Il nove di cuori No Taglio qui Dieci di cuori No Taglio qui Dieci di picche Tagliamo fin quando non incrociamo una carta di picche O del seme che avete ordinato da 13 a 1 In questo caso io ho messo picche Più difficile Non troverò la tua carta di faccia Ma mi lascerò indicare Questa frase la diciamo però Appena vediamo il dieci di picche Quando stiamo dicendo questa frase Dobbiamo guardarlo dritto negli occhi In modo tale da far vedere Che non stiamo portando attenzione all'ultima carta Taglio Vedo il dieci di picche Adesso più difficile Non troverò la tua carta tagliando E lo stiamo guardando negli occhi Ma mi lascerò indicare la posizione Abbassiamo gli occhi Facciamo vedere che abbiamo visto per la prima volta il dieci di picche Ok dieci Non portiamo attenzione al seme Portiamo attenzione al numero Dieci Andiamo a contare dieci Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci E in decima posizione ci sarà per forza la carta scelta Quindi questa è la prima possibilità Tenendo noi le carte La seconda possibilità Appena abbiamo lasciato il set di fiori Sotto a tutta la scala di picche In mezzo Lasciamo le carte al nostro spettatore Gli diciamo di tagliare più o meno a metà Di girare le carte di faccia E in questo caso abbiamo già avuto la fortuna di capitare su una carta di picche Mettiamo caso che non capiti una carta di picche Gli diciamo Ok dai un piccolo taglio dove vuoi Quando diciamo piccolo taglio Lui prenderà sempre poche carte Tutte le volte dobbiamo ripetere la stessa frase Dai un altro piccolo taglio E con un massimo di due Tre tagli Incoroceremo una carta di picche Appena vediamo una carta di picche Gli diciamo Ok perfetto Ok guarda il numero della carta Alla quale hai tagliato Sette Era questa la tua carta? No Contiamo il suo valore Dici di girare tutte le carte Di dorso E di contare faccia in basso Sette Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E ci ritroveremo con la carta scelta Ovviamente questa sarà faccia in basso Gli diciamo La settima carta È esattamente la tua carta Questo lo fa il nostro spettatore Ed è molto potente Cosa succede quando abbiamo queste carte sul tavolo Che sono tutte in ordine? Cosa facciamo? Molto semplice Gli diamo la carta E diciamo Questa è la tua carta E noi mettiamo le carte sotto al mazzo E automaticamente Adesso abbiamo le carte a specchio Se vogliamo risettarle Ma penso che non ci serva In quanto questo gioco va fatto all'inizio E poi basta In ogni caso se vogliamo risettarle per un effetto Basta metterle così Fatto Cosa succede se non vediamo una carta di picche? Ovvero stiamo tagliando a vuoto Stiamo tagliando a vuoto Non vediamo mai una carta di picche Cosa che capita raramente Beh tagliamo fin quando non la incrociamo O cerchiamo di fare tagli più piccoli E la sensazione appena vediamo arrivare una carta di picche Diciamo ok qui Cosa molto importante Alla fine dopo aver finito il gioco Se avete paura che lo spettatore possa controllarvi le carte E vedere che sono in ordine Tutto quello che dovete fare È dargli Una mescolata E le carte tornano completamente in disordine Se invece volete essere un po' più sicuri E volete far vedere alla fine anche le carte così La soluzione migliore È quella di mettere dal re all'asso Tutti i semi diversi Però in questo caso è un po' più complicato Perché dovete ricordarvi la sequenza Cuori quadri Fiori picche O qualunque altra cosa sia Ho usato moltissimo questo gioco in pubblico Per il semplice fatto Che è veramente semplice E che non può essere sbagliato Può venire sbagliato solo se inverti l'ordine Invece che avere sul fondo l'asso Hai sul fondo il re E automaticamente quando tagli ad un 8 Non devi contare 8 Ma devi contare 5 Quella è la cosa peggiore che può capitare Come ho detto prima Se vedete che la carta di picche non salta fuori Potete provare con tagli più piccoli Perché molte volte lo spettatore taglia allo stesso punto Ed è per questo che di solito io chiedo allo spettatore Di fare dei piccoli tagli Quindi questi sono dei piccoli accorgimenti Ma penso che voi siate bravi E non sbaglierete di sicuro in questo gioco Ragazzi spero che il tutorial vi sia stato utile Abbiate imparato una cosa nuova Spero inoltre che i tutorial così dettagliati vi piacciano Se avete domande su questo gioco potete farmele nei commenti L'unica cosa che dovete fare in questo caso è andare fuori a provarlo Io ragazzi come al solito vi chiedo di lasciare un like Se non siete iscritti iscrivetevi Se volete vedere tutti i tutorial ve li lascio qua sopra nella playlist Seguitemi su Telegram nel gruppo Che lì ricevete tutte le news E cosa molto importante per voi Ci sarà un contest oggi pomeriggio alle 5 sul mio Instagram Quindi seguitemi lì in collaborazione con 52 Cards Io vi mando un abbraccio E noi ci vediamo domani con un altro video Ciao Ciao